Mi piacerebbe un bel abito, magari firmato, ma non so se me lo posso permettere. Ma vai da Temporary Store in Via Mazzini 118. Trovi Cervino Street, Love Moschino, Gias Cavalli e Canali, ma anche tanto altro. E i prezzi? Li verifichi con i tuoi occhi assolutamente strepitosi. Solo abbigliamento donna? No, anche uomo. Temporary Store, Via Mazzini 118. La moda ad un prezzo che non ti saresti mai aspettato. Tutto realmente scontato al 70%. Grazie.